Oggi la sgambatella si fa all'abbadia di Fiastra in onore del compleanno di Maurizio Quattro di Maurizio Salve! Salve! Grazie a tutti. Qui si prende per il tratturo. 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 Questa non sembra ma pende. Qui si prende per il tratturo. 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 Grazie a tutti. Maurizio c'è prova? Io no. Grazie a tutti. 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 Eccolo il fiastrone. Grazie a tutti. 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 San Isidoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.